e ora il giorno ma certo sono le zappe di un uccello la noce oscurezza e il cielo oscurezza mi ha questo e mi calma e sei proprio sicuro mi sono mai sbagliato insomma per le cose importanti e ora che facciamo? per il ehi la salve io mi chiamo joe m laiella ah sono un bonaccione joe sta per joe un nome che fa il paio con quello di menagramo il nome ietatore mi calza come un guanto ma tutti mi chiamano laiella specie voi sapete c'è ancora gente che insiste a prendersela con me per quello che le capita e ora il giorno oh no l'assento da quando un guscio da latte per inciso non preoccupatevi per quel lupo affamato sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno preparatevi gente sta per andare in onda un cartone bellissimo per farlo a